E abbiamo Carlo De Blasio della TGR collegato con noi da un bar però molto particolare di Napoli. Cominciamo da Carlo. Buon pomeriggio Carlo, dove ti trovi? Sì, buon pomeriggio a voi. Questo è un posto chiuso al pubblico. È un bar molto particolare, ma dovremmo dire caffè. Caffè Bayard. Poi vi spiego perché Caffè Bayard. Si trova all'interno del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, che è stato visitato tra l'altro per ben due volte dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Anche il museo è chiuso, non è aperto al pubblico, come esattamente questo caffè, dovuto tutto al coronavirus e al lockdown. Intanto io comincio a scendere per avvicinarmi a voi e percorro le rampe di questa scala dalla quale non mi vedete. Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa è gestito dalla Fondazione Ferrovie dello Stato. Il direttore del museo si chiama Oreste Orvitti. In questi giorni si stanno preparando, stanno facendo tutto il possibile per avere nuove idee, mettere in cantiere nuove iniziative e allestire tutto quello che è allestibile per la riapertura che auspicabilmente si profila all'orizzonte. Vi dicevo caffè Bayard, perché questa è stata anche soprannominata macchina Bayard, è una splendida riproposizione di una macchina del caffè di tanti anni fa, che vedete a quattro bracci, interamente meccanica, una riproposizione che si fa in pochi esemplari al mondo, e che il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ha voluto qui nel caffè Bayard. Veniamo dunque a questo nome. Bayard è stato l'ingegnere progettista della Napoli Portici, è stata la prima ferrovia europea, è veramente un pezzo di storia. Ed è a questo che si richiama anche questo museo, che è ricchissimo di locomotive, di vagoni ferroviari, ci sono pezzi storici assolutamente incomparabili. È veramente auspicabile che questo museo, che l'anno scorso ha raccolto 200.000 visitatori da tutto il mondo, possa quantomeno riaprire mantenendo tutte le prescrizioni. Abbiamo parlato prima con il direttore Oreste Orvitti, ci ha raccontato che qui per le dimensioni enormi è facile mantenere il distanziamento sociale, è facile rispettare le norme che saranno introdotte, ma che al momento non sono ancora state illustrate nel dettaglio per essere poi applicate. Ma tutto è pronto, non solo qui, in tutti i musei d'Italia. Io finisco il mio caffè perché a Napoli il caffè deve essere bevuto piuttosto caldo, se non proprio, come si dice, da bestemmiare. Grazie Carlo De Blasio. Io in realtà, insomma, non sono sicuro che ci sia il caffè, effettivamente, perché tutto questo movimento di scena che ci hai fatto vedere, insomma, è davvero equilibrista. Però grazie per le belle immagini. Tra l'altro quella macchina del caffè sembra una locomotiva, più che una macchina del caffè andrebbe esposta insieme alle altre locomotive che abbiamo visto. I musei italiani, anche quelli meno conosciuti, quelli più strani come questo, insomma, delle ferrovie, sono il vero valore del nostro paese e speriamo anche il punto di partenza. luoghi in cui anche il caffè, anche il bar, lo vedete, sono un'opera d'arte. Poi, insomma, uno si spiega perché i turisti di tutto il mondo vengono da noi e impazziscano per il nostro paese. Grazie a Carlo De Blasio della testata giornalistica regionale. Carlo, questa volta un ringraziamento particolare anche alla troupe che ha effettuato questo collegamento, alle belle immagini, alla discesa della scala, insomma, un po' di scenografia, un po' di, chiamiamola anche coreografia, dei nostri collegamenti che però serve, non è forma, è contenuto, è sostanza.